Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, calcio e caffè. La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Il calciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra, come sempre, da una squadra vincente. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie. Scommetti con K-Bet, ben ritrovati. Una giornata di Serie A che sarà una giornata spezzatino, caro Massimo Monti. Ciao, ben ritrovato. Buongiorno Riccardo, un saluto a tutti i nostri amici. Giornata di Serie A che sarà spezzatino perché è iniziata già addirittura ieri sera, perché ci segue oggi, venerdì, è iniziata già ieri sera con il successo per 5-2 della Lazio contro Lella Severo, un risultato che per il Palermo va più che bene, visto che comunque Lella si rimane lì, il fanalino di coda, e non avrà anche per questa giornata possibilità di rosicchiare punti ai rosa-nero e questa sera proverà a fare lo stesso, tra virgolette, la Roma, provando a fermare il Carpi in casa sua. Ed è questa la prima partita che allora, caro Massimo, andiamo ad analizzare Carpi-Roma. Si parte ovviamente con i favori del pronostico per la formazione di Spalletti che sembra aver trovato un po' una sua quadratura in questo periodo, successi uno dietro l'altro, quindi si sta ritrovando tre vittorie consecutive, quindi insomma la Roma che sta bene e proverà ad ottenere la quarta vittoria di fila sul campo di un Carpi che sì, sta bene comunque anche lui dal punto di vista del morale, ma deve comunque trovare il successo che manca da un paio di giornate, dunque sarà importante per il Carpi tornare a vincere. Le quote dicono Roma, le quote dicono Roma perché il segno 2 paga ad 1,87, segno X che paga a 3,50, segno 1 che invece paga a 4,30. Massimo? Sì, è una Roma che come dicevi tu ha trovato la quadratura giusta, mister Spalletti la cura comincia a fare effetto, è una Roma che secondo me può avere ragione contro il Carpi, perché come dicevi tu, un Carpi che tutto sommato ha fatto bene nel turno precedente ha resistito all'attacco del Napoli, considera che ha preso solo un gol, il Napoli non vinceva 1-0, adesso a memoria da tantissime giornate non vinceva 1-0, quindi è un Napoli che ha sofferto contro il Carpi, secondo me comunque la Roma potrebbe appunto approfittare di questo turno favorevole, è una quota interessantissima, è un segno 2 che paga ad 1,87, è una quota interessante, non posso che cerchiare con il rosso questo segno 2. Partiamo col botto. Sì, ti do subito questa mia prima scelta per questo segno 2 che paga ad 1,87, una partita che come dicevi tu ci interessa da vicino perché se la Roma dovesse vincere il Carpi a questo punto verrebbe sempre più gettato nei bassi fondi della classifica, anche perché con una serie di strani incroci delle altre partite, insomma il Palermo potrebbe avere un minimo di respiro e allontanare sempre di più la zona calda della classifica. Questa era dunque l'analisi di Carpi, Roma che si giocherà venerdì questa sera alle 20.45, alle ore 15 invece di sabato si giocherà la sfida tra Empoli e Frosinone, un'altra gara che il Palermo guarderà con particolare attenzione perché il Frosinone è l'altra squadra insieme al Carpi che proverà ad inserire fino alla fine il Palermo, le quote anche in questo caso dicono comunque Empoli perché il segno 1 paga ad 1,58, segno X che paga 3,90, segno 2 che addirittura paga a 6,20, anche questa quota che era massimo per l'Empoli che ha dimostrato di giocare un ottimo calcio è una quota piuttosto importante questo 1,58. Sì, è un Empoli che insomma tutto sommato, a parte la debug delle ultime 5 giornate dove insomma ha realizzato 4 pareggi e una sconfitta, è un Empoli che secondo me... Sì, assolutamente può ritenersi insomma abbastanza soddisfatta di questa stagione e quindi ripartire dopo un momento di stop dopo le ultime 5 giornate insomma dove ha realizzato 4 pareggi insomma potrebbe tornare al successo contro il Frosinone che è un Frosinone che ormai sembra abbastanza condannato alla Serie B, attenzione l'unico dato insomma per la cabala, per gli avanti della statistica, il Frosinone è l'unica squadra di Serie A ad ancora non aver vinto fuori casa, quindi questo potrebbe essere appunto l'unico, diciamo l'unico neo di questo match, però la partita i pronostici pendono tutti sui padroni di casa, tutti sul segno 1 e quindi insomma anch'io mi sento di incoraggiare questo segno 1 a 1,58. Regna l'equilibrio invece in Chievo-Sassuolo che sarà la gara che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Bente Godi, regna l'equilibrio perché? Perché le quote dicono che il segno 1 paga 2,60, segno 2 che paga invece 2,85, segno X a 3,15. Forse sono due squadre che potrebbero addirittura accontentarsi di un punto massimo visto che comunque sono entrambe già salve, hanno raggiunto quello che era il loro obiettivo iniziale? Ma io credo di sì perché insomma come dicevi tu, tutti e due le squadre abbastanza soddisfatte del cammino, il Sassuolo sicuramente ha qualche qualità in più rispetto al Chievo, però è anche vero che il Sassuolo nelle ultime cinque giornate insomma non ha vinto una partita, quindi un Sassuolo che sicuramente è un po' io lo dicevo già da un bel po' di giornate che il Sassuolo avrebbe un po' cominciato a regalare un po' punti a destra e a sinistra, anche insomma col Palermo tutto sommato nel torno precedente abbiamo visto che per certi versi sembrava sembrava che il pari stesse bene a tutti e due tranne un attacco finale del Sassuolo dove insomma si era reso pericoloso, però insomma è un Sassuolo che nelle ultime cinque giornate è un po' più rinunciatario, quindi il pari secondo me potrebbe accontentare entrambi e potrebbe insomma continuare il cammino di tutti e due con una serie diciamo positiva, con una tranquillità e con una serie tenerità ad affrontare queste ultime giornate, queste 12 giornate in assoluta tranquillità. Il segno X paga 3,15, questo lo vedo un esito possibile per una partita insomma che non dovrebbe avere tantissime emozioni. Dovrebbe avere invece tantissime emozioni Juventus-Napoli sulla carta, sulla carta dovrebbe avere tantissime emozioni Juventus-Napoli che sarà invece la gara che si giocherà sabato alle 20.45. Allora io parto già da un presupposto, sto guardando le quote qua sul nostro tablet su kbett.it, sto guardando le quote. Quote importantissime per tutti i segni. Le quote sono importantissime, è vero, per tutti i segni, però se ti conosco un minimo la Juventus tu già la giochi a prescindere perché la Juventus in casa con una quota superiore alla pari. Però attenzione perché insomma gioca con Napoli, non gioca con l'ultima della classe, anzi al contrario, è uno scontro tra prima e seconda e il Napoli in questo momento ricopre la leadership della classifica del campionato di Serie A, quindi secondo me massimo rispetto per questo approccio alla partita da parte dei padroni di casa. è una partita interessantissima dove tutto può succedere perché non escludo, tu parlavi del segno 1 della Juventus a 2.20 ma anche il Napoli a 3.50, è un Napoli che secondo me se dovesse vincere veramente comincerebbe a cucire almeno un lato, un lato dello scudetto comincerebbe a cucire sulla maglia. La Juventus, secondo me la Juventus ha due risultati a favore, nel senso che la Juventus anche se dovesse pareggiare, la Juventus nulla è compromesso perché ancora il percorso è talmente lungo e ci sono tanti punti a disposizione che potrebbe ancora lottare, potrebbe essere ancora protagonista insieme al Napoli in questo scontro ormai a due, tutti gli altri si sono fatti fuori da soli, quindi secondo me è una Juventus che gioca con due risultati a favore. Anche il Napoli a questo punto però credo, perché uscire comunque indenne dallo Juventus Stadium sarebbe importante, però ripeto il percorso è ancora lungo, il cammino ci sono tanti punti a disposizione, questa è una partita che ha un sapore diverso, ha un sapore di sfida, ha un sapore di rivalza, insomma ci sono tantissimi incroci, è un derby toscano fra i due allenatori, è un derby argentino fra i due attaccanti perché abbiamo Di Bale e Iguain dall'altro, insomma è un derby tra due numeri uno, insomma due portieri di un certo spessore, quindi è una partita di tutto rispetto, credo che sabato già dalle otto, io forse non c'è no questa partita, ce n'erò dopo, io questa partita comincerò già ad allentare. Io invece mi gusto prima Chievo-Sassuolo in modo tale che poi Juventus-Napoli per forza dico se sarà una bellissima partita. Sicuramente certo, ti vedi Chievo-Sassuolo poi vai di Juventus-Napoli, un pochettino di differenza ci sarà. Una partita, ripeto, emozionante, abbiamo detto tutto e potremmo dire altro su questa partita, parliamo soltanto delle quote che dicono che in questo momento i padroni di casa diciamo che sono leggermente favoriti rispetto al Napoli, un segno 1 che paga 2,20 e come abbiamo detto però ripeto la partita è difficilissima, è una partita dove tutto può succedere, certo leggermente favorita mi sembra la Juventus e a 2,20 non possiamo che insomma avere un minimo di interesse per questa quota. Quota interessante anche per il Milan che cerca un po' più di fortuna rispetto a quello che è stato l'ultimo turno contro l'Udinese e proverà a farlo contro un Genoa che ha perso Pavoletti e Ansaldi per infortunio, Pavoletti addirittura starà fuori 40 giorni, Ansaldi 20 la situazione di classifica non è per niente rosia, per la squadra di Giampiero Gasperini proverà ad approfittarne il Milan nel lunch match di domenica, le quote dicono ovviamente favori del pronostico per i rossoneri pagati ad 1,70, segno X che paga 3,65, segno 2 che paga a 5,25. Massimo rispetto all'Udinese della scorsa settimana secondo me il Genoa sta un po' peggio. Insomma anche la settimana scorsa il Milan aveva tutto sommato un match alla propria portata e poi alla fine si è ribaltato il film della partita perché è un Milan che ha dovuto rincorrere, ha dovuto inseguire l'Udinese che era abbastanza in vantaggio. Insomma io credo che il Genoa... Si ha rischiato di segnare il 2-0 l'Udinese e poi potrà vincere dall'altra parte del Milan. Assolutamente, è una partita da non sottovalutare, ormai la storia ci insegna che queste partite che sulla carta sembrano facili invece poi risultano sempre quelle più insidiose. Più insidiose. È un Milan che nelle ultime cinque giornate ha uno score abbastanza positivo perché ha vinto tre volte, non ha mai perso, quindi secondo me un Milan potrebbe avere ragione contro il Genoa e la quota è 1,70, veramente è una quota... Come facciamo a non giocare questa quota? È una quota interessantissima, è una quota a 70 contro un Genoa che credo adesso i numeri non mi accompagno, non è un Genoa che è fuori casa, non credo che abbia uno score così preoccupante e così pericoloso. Tra l'altro ha perso due dei uomini più importanti, lo dicevamo prima, Paveletti Ansaldi che sicuramente sono... Queste quote verosimilmente tuffiamoci adesso su questo segno 1 perché secondo me fino a domenica questa quota precipiterà. Sarà destinata a scendere, sì. Sì, assolutamente. Favori del pronostico anche per la Sampdoria che è obbligata a vincere in casa contro l'Atalanta, non ha altri risultati, la formazione di Vincenzo Montella che deve assolutamente salvaguardare la Serie A e lo dovrà fare tra le muramiche ricevendo l'Atalanta che invece prova a tirarsi fuori da un periodo un po' più difficile rispetto alla formazione proprio di Montella. Le quote cosa dicono? Le quote dicono Sampdoria perché il segno 1 paga 2,15, segno X a 3,25, segno 2 a 3,55. La Sampdoria deve vincere. Sampdoria, stanno peggio tutti e due? Sì, stanno, sì. È una gara che sta peggio. Bisogna capire chi sta messo male. È una partita veramente tra due feriti, tra due società ferite perché in questo momento veramente i numeri non danno ragione in questo momento. Entrambi hanno un percorso veramente da zona da retrocessione. Se non ci fossero quei tre così lontani queste qui sarebbero coinvolte e risucchiate. Eh, la Sampdoria è lì dove stare attenta. La Sampdoria è lì. Ciao, insomma, ancora cinque punti di vantaggio sul gruppo delle terz'ultime. Però è una Sampdoria che deve assolutamente fare punti. Secondo me contro l'Atalanta deve suonare la carica mister Montella e deve tornare al successo. La Sampdoria, ripeto, che nelle ultime cinque giornate ha realizzato quattro sconfitte e un pareggio. Quindi, secondo me, sete di punti contro l'Atalanta. Non poteva incontrare avversario migliore perché l'Atalanta ha fatto peggio nelle ultime dieci giornate. Credo che ha realizzato solamente due punti. Quindi, secondo me, è un'Atalanta seriamente coinvolta nella zona retrocessione. Segno 1 a 2,15. La quota è interessantissima. Insomma, le motivazioni sono per entrambi, però i padroni di casa, secondo me, hanno qualità e hanno il fattore campo dalla loro parte e potrebbero portare a casa i tre punti. Favori del pronostico anche per l'Udinese in casa contro il Bologna, con conto che, tra l'altro, insomma, guardavo, sono praticamente uguali rispetto a quelle della gara tra Sampdoria e Atalanta. Anche in questo caso il segno 1 paga a 2,15, il segno X paga a 3,25, in questo caso invece il segno 2 paga a 3,60, mentre l'Atalanta è pagata a 3,55. Quindi, insomma, anche secondo i quotisti di Kbet.it, questa partita è più o meno simile. Quindi le spiegazioni possono essere più o meno quelle di Sampdoria e Atalanta. Assolutamente. Attenzione al Bologna, però, da non sottovalutare, perché in Bologna... Rispetto all'Atalanta sta meglio. Rispetto, ecco, sicuramente rispetto all'Atalanta è un Bologna che ha qualcosa in più. Un Udinese che nelle ultime uscite, tutto sommato, non ha fatto male, perché considera che, insomma, ha pareggiato con il Milan, ha pareggiato con la Lazio, ha pareggiato con l'Empoli. Quindi è un Udinese che, insomma, la vittoria manca, però è un Udinese che è sempre viva, un Udinese che cerca di, punto dopo punto, di rosicchiare e di scavalcare, insomma, e di aggrapparsi con le unghie e con i denti a quella posizione di classifica che le consentirebbe di mantenere la categoria. Quindi è una partita difficilissima dove tutto può succedere. Io penso che anche in questa partita i favori sono per i padroni di casa, però attenzione al Bologna a non sottovalutarlo, perché potrebbe fare lo sgambetto ai padroni di casa. Il segno X lo vedo all'esito possibile, è una quota interessantissima che paga veramente tanto a 3,25. Io, insomma, punterei il dito su questo segno X. Il primo Palermo invece del duo Bosi tedesco, caro Massimo Monti, siamo arrivati alla partita che forse più ci interessa rispetto alle altre, quella del Palermo che riceverà in casa il Torino domenica pomeriggio allo stadio Renzo Barbera. È il primo Palermo di Giovanni Bosi e di Giovanni tedesco insieme che proveranno a portare la squadra alla salvezza. Le quote comunque dicono Torino, perché il segno 2 paga 2,45, il segno 1 che invece paga 3, il segno X che paga a 3,20. Quindi le quote comunque dicono Torino, ma il Torino non sta benissimo, è riduce dalla sconfitta in casa contro il Chievo Verone. No, assolutamente, ma a questo punto io credo che il Palermo... Non che il Palermo stia meglio, però il Palermo ha pareggiato in casa del Sassuolo. Cosa vuoi che gli succeda ancora, perché veramente abbiamo visto di tutto in questa stagione, insomma un po' per sfortuna, un po' per incompetenza, un po' perché forse un po' di confusione in casa a Rosanero in questo momento diciamo che l'unica qualità in questo momento nel Palermo è la confusione. Non ultimo abbiamo preso un allenatore che non aveva l'abilitazione per allenare in Serie A, quindi insomma mi sembra veramente una leggerezza, anzi non la sottolineerei come una leggerezza, ma mi sembra proprio un errore abbastanza importante. È un Palermo che veramente ha subito troppo durante questa stagione, ma bisogna concentrarsi, bisogna lavorare e cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Il Torino come dicevi tu sta messo male, però è un Torino che a questo punto credo che cercherà di fare punti, di cercare di vincere contro il Palermo perché è un Torino che perde, che non vince da sette giornate, credo da otto giornate e quindi a questo punto Mister Ventura nonché sia abbastanza solido in casa del Torino, ma a questo punto credo che sia messo in discussione. Domenica è uscito tra i fischi del pubblico, tra le proteste, quindi insomma vede un pochettino la sua panchina un po' ballare. È una partita difficilissima dove tutto può succedere, insegno a uno, ecco io forse queste quote avrei fatto un po' più equilibrate, nel senso perché comunque il Palermo ha tre in casa, si può giocare, io penso che con l'orgoglio, con i denti e con i pugni potrebbe conquistare i tre punti. Ci affidiamo a questi due che si chiamano Giovanni, magari che ne so qualche santo, San Giovanni tutti e due, si chiamano Giovanni e Giovanni, i nostri allenatori, insomma potrebbero avere un po' la fortuna e la provvidenza dalla nostra parte. Segno 1 a 3 è una quota interessantissima, il segno 1x la doppia chance è una quota che sarà sicuramente intorno alla pari, io l'attenzionerei questa quota per il Palermo, per il cuore, insomma per tutte le speranze che riponiamo nei nostri uomini. Chiuderà la giornata, lo vediamo, Fiorentina-Inter che si giocherà alle 20.45 di domenica sera, i favori del pronostico sono per la Fiorentina che ha un punto di vantaggio sui nerazzurri in classifica, mentre queste sono ancora le quote di Palermo-Torino con i rosa nero che dicevamo protagonisti in casa. La Fiorentina invece, eccole le quote, è nettamente favorita in questo caso sull'Inter, nonostante il solo punto di vantaggio, alla fine la Fiorentina un solo punto di vantaggio sull'Inter in classifica, anche questa, così come Juve-Napoli che è la sfida fra la prima e la seconda, questa è la sfida fra la terza e la quarta in questo strano incrocio di questa giornata del campionato di Serie A, anche in questo caso mi viene da dire che insomma chi perde può salutare forse quasi definitivamente il treno per la Champions League, caro Massimo, le quote dicono Inter a 3.25 così come il segno X, mentre il segno 1 paga a 2.30. Ma queste, come dicevi tu, sono la terza e la quarta, ma insomma se torniamo indietro a sei, a sette giornate fa, queste erano prime e seconda, quindi insomma un cammino per entrambe importante, almeno nella prima parte del campionato, poi insomma c'è stato uno scivolone di tutti e due, e li ha portati in questa posizione di classifica. Attenzione, posizione scomoda perché se la Roma dovesse vincere contro il Carpi potrebbe scavalcare, addirittura potrebbe scavalcare entrambi, perché se questi, insomma il pareggio, credo che non serva a nessuno dei due, perché insomma potrebbero ritrovarsi, la Roma si potrebbero ritrovare davanti. E ricordiamo che noi insomma per la Champions abbiamo soltanto tre posti, quindi insomma due, quelle che mi sembrano abbastanza consolidate, quindi per l'unico posto per l'Europa che conta per la Champions, Fiorentina-Inter-Roma e attenzione al Milan che ha un tiro di schioppo che proverà a raggiungere. Quindi è una partita dove tutto può succedere, l'Inter forse in questo momento la vedo un po' più in sofferenza, la vedo un po' più confusa nell'ultima uscita contro il Verona, insomma ha mostrato tutte le proprie debolezze, perché insomma prendere tre gol dal Verona, tutte e tre su palle inattive, non è una cosa che passa inosservato, quindi secondo me è una Fiorentina che potrebbe fare male all'Inter, quindi le quote per tutti i segni sono quote importantissime, ma io penso che Badone in casa sono leggermente favoriti, le quote insomma mi danno ragione, è un Inter che in questo momento ha perso qualcosa rispetto al girone d'andata. Siamo praticamente in chiusura caro Massimo Monti, prima di chiudere però ovviamente come sempre il nostro appuntamento con la schedina settimanale, quindi parti tu con le tue due squadre, una già l'avevi già svelata ad inizio trasmissione, poi insomma parto anch'io con quelle che deciderò. Sì ma io ti ripeto, ti dico il segno 2 di Carpi Roma, e poi ti dico il segno 1 della Sampdoria contro l'Atalanta. A 2,15 quindi anche questa è una quota molto importante, io invece scelgo il Milan e la Fiorentina che mi ero già permesso insomma di cliccare, mentre tu stavi concludendo l'analisi di Fiorentina Inter. È un pronostico insolito per te questo segno 1 della Fiorentina. È un pronostico insolito però l'analisi che hai fatto tu mi piace e mi trova anche concordo, l'Inter in questo momento non brilla, la Fiorentina invece in casa comunque ha dimostrato di poter far bene. Con 2 euro, 34 euro, quindi con 10 euro insomma ci divertiamo. Assolutamente, 10 euro, 150 euro insomma ci viene un bel... San Valentino tranquillo. Ci viene un ristorante, un piccolo cadeau per tutte le persone, per tutte le coppie insomma. Ah ok, per tutte le coppie. Per i single insomma si può festeggiare in maniera grossa. I single si vanno ad ubriacare, come solitamente si fa. Caro Massimo Monti, giocate e bevete con moderazione. Con moderazione, come sempre, come sempre. Caro Massimo Monti, ci vediamo ovviamente la prossima settimana. Kavette.it per scommettere in diretta, live, tutti gli eventi, non soltanto il calcio perché ovviamente questa settimana c'è anche, oltre alla Serie A, la Serie B e tutto quanto, il calcio internazionale. C'è un premier con un match di prima qualità, insomma come Juventus-Napoli c'è il campionato italiano, lì c'è Arsenal-Leicester, quindi insomma anche quello è uno scontro importante. Assolutamente sì, per chi invece, insomma, è tradizionalista e vuole assaporare il gusto della schedina in mano ancora, ci sono ovviamente i due punti vendita della Cursal Bookmaker in via Donnorione, in via Silvio Pellico, alla Zisa. Grazie caro Massimo Monti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Riccardo. E un buon weekend e riscommessi a tutti. Un saluto a tutti i nostri amici. Un saluto a tutti i nostri amici. dal lunedì al venerdì, calcio e caffè. La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Ilcalciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra, come sempre, da una squadra vincente. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie.